ed eccoci insieme cari amici di Radio Regione bentornati davvero sulle nostre frequenze sono Simonetta Vandone con voi anche oggi vi porto da un nuovo ospite il mio ospite è già in collegamento con noi ed è un piacere presentarlo si tratta di Lorenzo Rosselli in arte Inazuma sensei blogger dalla pagina Facebook e Instagram molto molto particolare ciao Lorenzo buongiorno buongiorno a voi come stai tutto bene tutto bene la vita prosegue va bene questo è importante meno male dai gli ho detto prima in si insomma fuori onda che poteva indossare il suo cappello considerato che nell'immagine social in questa grafica molto particolare ha questo cappello che lo identifica sentire lorenzo come hai iniziato come iniziato questa tua attività che cosa che ti ha spinto ok allora intanto prima di tutto più che blogger o comunque instagrammer tutte quelle cose lì mi identifico più come youtuber anche se poi anche quelle sono attività collaterali a loro volta e diciamo che mi iscrissi nel circuito dei social online vabbè con Facebook così insomma come una cosa privata con youtube in particolare nel 2013 iniziai cosa che faccio ancora oggi come doppiatore amatoriale o quello che nel nel circolo è chiamato anche fan dubber ovvero sia quelli che che ridoppiano magari scene di film che gli sono piaciute oppure magari anche veri e propri cartoni online o comunque animazioni quel genere di contenuti che si trovano direttamente online senza che passino per via televisiva oppure per il cinema quindi si iniziai nel 2013 perché mi affascinava il mondo avendo seguendo già persone che appunto praticavano queste queste cose per esempio c'erano fan dubber particolarmente conosciuti all'epoca e alcuni conosciuti anche oggi che per esempio la gente come gli orion che sono un gruppo abbastanza conosciuto e che adesso fa è proprio nel nel ramo del del doppiaggio professionale che contengono continuano comunque a mantenere un un canale youtube però lo utilizzano meno comunque sì mi affascinava il mondo e decisi di entrarci naturalmente all'inizio in maniera totalmente amatoriale cioè avevo un registratorino di quelli di quelli comprati in un in un negozietto e la qualità audio era piuttosto scarsa le mie capacità di editing erano piuttosto scarse quindi i miei primi video anzi oserei dire fino al 2017 addirittura cioè dal 2013 al 2017 erano video molto alla alla buona alla carlona come si usa dire poi decisi piano piano di aumentare oltre che le mie oltre che le mie capacità sia recitative che di diczione cercavo mano a mano sempre di migliorarmi e anche di migliorare le mie capacità di portare di portare contenuti in un certo quel modo di qualità quindi mi comprai un microfono nuovo un microfono nuovo un road su amazon è considerato di buona qualità nel giro dei fan dubb e quindi continuo anche oggi a fare doppiaggi settimanali ma non solo anche recensioni e contenuti di vario genere appunto se faccio recensioni in cui esprimo la mia opinione oppure analizzo determinati determinate cose principalmente opere come serie animate fumetti insomma quelle che sono le mie passioni che bravo che bella cosa vi sono sono rimasta affascinata dal tuo racconto e anche dalla modestia che ti ha contraddistinto l'aver detto infatti di aver iniziato insomma in modo semplice cercando di imparare un po per volta questa attività insomma è una bella è una cosa da sottolineare non tutti fanno così complimenti lorenzo sentiti posso chiedere perché il nome innazuma sensei allora nel 2013 che è quando crea il mio canale youtube dovevo cercare un nome d'arte appunto qualcosa perché avrei potuto utilizzare il mio nome vero certo alcuni lo fanno però volevo qualcosa di più specifico insomma che che suonasse come un vero e proprio youtuber quindi e all'epoca stavo attraversando la mia fase anime sai l'animazione giapponese e quindi volevo qualcosa che suonasse un po giapponese e appunto innazuma sensei è composto dalle parole innazuma che significa fulmine e sensei che significa maestro insegnante prima principalmente lo uso con il significato di maestro anche se può suonare un po pomposo però avevo anche scelto avevo anche altre opzioni tra quelle che avevo considerato per esempio lord master addirittura però suonava addirittura ancora più pomposo in periodo quindi alla fine innazuma sensei suonava bene ero affascinato dall'idea dell'elettricità quindi fulmine dunque mi sembra giusto bello bello molto azzeccato complimenti anche nella grafica come dicevo prima delle tue pagine hai messo questa tua immagine un po stilizzata con questo cappello molto molto particolare ci tengo dire che è un disegno realizzato da un artista di nome le simaco che potete trovare anche su facebook e su instagram o con il nome le simaco oppure come 89 che è il nome del suo progetto principale è un artista con cui collaboro spesso quindi ci tengo a citarla avete un buon rapporto ed è stato molto bravo devo dire perché adesso che ti vedo parlo con te in effetti devo dire che ha azzeccato in pieno la linea è una ragazza non avevo non avevo colto bene bene senti lorenzo tra l'altro la tua voce mi ricorda molto se posso dirtelo è la voce dei di quelli che ascoltiamo spesso e volentieri in televisione quando vengono chiamati a tradurre a fare da traduttori simultanei no nelle varie conferenze perché ci sono giustamente magari personaggi stranieri hai questa voce molto impostata nel senso molto sicura molto che scivola molto bene quindi è molto piacevole da ascoltare ti faccio i miei complimenti per gli studi che hai portato avanti lorenzo quanto ti dedichi tu al giorno questa attività diciamo che non ho un tempo specifico cioè cerco di fare di portare contenuti settimanalmente però al di fuori di quello diciamo che l'esercizio è più che altro non in maniera specifica improntata al miglioramento delle delle mie capacità in quanto appunto per per il doppiaggio cose del genere cerco di esercitarmi più in proprio magari nel mentre unendo l'utile al dilettevole per esempio quando studio cerco magari di leggere ad alta voce anche di interpretare un po così da da poter affinare la voce cercare di trovare l'intonazione giusta la dizione giusta perché anche la dizione non è sempre facile da trovare perché c'è una cosa chiamata anche ortoetia che è il trovare la giusta intonazione gli accenti delle parole quindi a volte è facile sbagliarsi quindi tendo anche spesso a controllare online per capire per sapere prima di pronunciare una parola in uno dei miei doppiaggi qual è l'accento giusto per fare il più correttamente possibile dal momento sempre non è una cosa che ho studiato proprio a livello di corsi o cose del genere ho sempre cercato di fare un po diciamo per conto mio quindi ho capito ho capito bravissimo lorenzo intanto che pass che parliamo passa in grafica all'indirizzo youtube che vedete in azuma sensei e poi naturalmente le pagine instagram in azuma underscore sensei e facebook eccola qua in azuma sensei quindi invito i nostri ascoltatori ad andare a condividere questa bella chiacchierata con lorenzo rosselli e farlo anche tu sulle tue pagine social in modo che ci sia tanta attenzione su questo tuo profilo molto molto interessante con tanti contenuti e naturalmente il nostro hashtag lorenzo non può che essere in azuma sensei mi sembra assolutamente scontato mi sembra giusto senti siamo in chiusura ti chiedo proprio se mi dai una risposta molto molto velocemente se hai qualche progetto proprio così nel primo nel prossimo futuro allora progetti nello specifico forse no cioè continuo continuo a portare contenuti sul mio sul mio canale sui vari sulle mie varie piattaforme social poi per esempio ci sono progetti che porto avanti da un po di tempo come per esempio il doppiaggio di una serie chiamata villenus che è una serie animata nata sul sul web e che di cui sono è stata una delle piattaforme di lancio principali del mio canale poi cerco anche di come fumettista di cercare di cerco anche di creare cose da fumettista per esempio c'è un mio progetto chiamato blu da blood hunters cioè cacciatori di sangue che si può trovare su facebook è una serie che vorrei prima o poi proporre a un editore anche se sono solo lo sceneggiatore purtroppo non so disegnare e quindi tutti questi progetti bene ti segui diremo ti seguiremo lorenzo rosselli in arti nazuma sensei ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi è stato un vero piacere conoscerti ti auguro un'ottima stagione e chiaramente che tutti i tuoi progetti possano arrivare e darti tanta soddisfazione ciao grazie lorenzo a presto ciao ciao che bello e simpatica molto simpatico questo ragazzo con tante idee allora rimaniamo insieme sì dai perché tra poco arrivano nuovi ospiti grazie a tutti grazie a tutti